Talos Vai Allora la domanda è perché Talos si chiama Talos No aspetta facciamo così, inquadrami e ti faccio la domanda Perché Talos si chiama Talos Io parlo lui muove le labbra No perché poi si facciano le labbra Sono due musici, li mettiamo Dai ricorda, raccontaci C'era sto libro di Valerio Massimo Manfredi Chi ha cambiato il nome? Non lo so Chi ha cambiato il nome? Vai 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 Lui è quello del Sudafrica che fai le mostre alla cazzo Passando la mano sopra l'avanti della camera Continua, continua Vai vai C'era Ma che libro è? Lo scudo di Talos Lo scudo? Fai tetra mic No era lo scudo di Talos Non ti pagare, non ti pagare C'era Albertone Di Lucca 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 Chi è che la conosce? Quasi questo giusto tuo Albertone Lucca com'è? Vabbè Ma ci ho Se l'ha perso sta cosa La muraglia No no è la muraglia La muraglia e le mani Chi voleva le cassettine Perché cominciamo a suonare i dischi Albertone I dischi Questi erano i dischi Si allora mi vede questo libro Ma tu devi avere uno mignolo Sei Talos Per fare il DJ Ah DJ Talos Quindi il battalizzatore Fu alberto di Lucca Si perché Prese il libro E lesse un pezzo In modo Diciamo distorto Lo fece ridere Alla greca E rimase impresso Questo libro E quindi da lì Il nome mignolo Poi L'avvento di Internet Questo era internet Ma che messerai L'inguaggia Ah wow Ok Web L'avvento del web Deve scegliere il login Quindi era rimasto Detto un nickname Nell'aereo moderno Finito le superiori L'università L'università mi chiamava così Poi è arrivato Vittorio Che gli vengono a Talos Diploma La storia è questa E perché scudo di Talos O scudo Talos Quello valla a chiedere Allora Valerio Massimo L'alfredi No vabbè Ma la mail L'avevi fatta così Non l'avevi messo DJ Talos Perché 5 lettere Era troppo corto Ah 5 lettere Non gli andava bene E quindi hai messo Scudo Talos DJ Talos DJ Talos Scusa Se eri DJ Talos Per Albertone di Luca Non volevo un email Cioè Dove essere email mia Non Insomma Vabbè Insomma Che domande fai Va bene Ok Possiamo chiudere La conclusione Alternativi Alternativi Ciao